La voglia di far qualcosa è sicuramente tanta, però personalmente dopo quello che ho visto a Srebrenica diventa anche difficile mettere mano senza ferir qualcuno e senza invadere la privacy, senza essere irrispettosi. Bisogna stare molto attenti in queste situazioni. La voglia di far qualcosa è davvero tanta, la voglia anche di portare i nostri compagni a vedere quello che abbiamo visto noi è tanta perché anche loro negli ultimi giorni parlando hanno detto anche noi vogliamo andare a vedere, anche noi vogliamo essere toccati come siete state toccate voi da questa esperienza, però c'è tanta paura perché è un'esperienza che davvero segna e poi andare a far qualcosa, cioè agire poi diventa difficile perché cosa possiamo fare noi se non dire agli altri quello che abbiamo visto, far capire agli altri quello che è successo nel nostro piccolo però noi siamo alla fine ragazzine, possiamo fare tanto ma nel nostro piccolo non possiamo fare ancora grandi cose come ha fatto Roberta per portare le bacche nei campi per aiutarli da un punto di vista economico, diciamo che noi possiamo dare un aiuto un po' più culturale.